Sapevo di affrontare una squadra importante, una squadra ben allenata e sapevamo le difficoltà che andavamo ad incontrare. Però credo che abbiamo tenuto botta per 95-96 minuti ad una squadra forte e credo che si è visto anche qualcosa di bello e che mi lascia molto soddisfatto della prestazione di tutti i ragazzi, chi ha giocato e chi non ha giocato.